Chiara, Chiara, dove siamo? Non lo so, ma... ma cos'è? Allora, l'ultima volta, io mi ricordo che eravamo tipo in un centro commerciale, ma secondo me siamo ancora qua. Anche secondo me, però... cecità? Eh, esatto, cioè io non vedo niente, ho la cecità, ma Chiara, no, allora io mi sto spaventando, cosa sta succedendo? Non lo so, ma... Sì, mi sa che è il supermercato, oddio! Cosa? Cos'è? No, 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 io non vedo niente, Chiara. Ok, è finita la blindness, ok, è finita la cecità, allora è... Dove... ok, siamo nel supermercato, come prima, ma è notte, e secondo me siamo rinchiusi nel supermercato, Chiara. E come facciamo a scappare? Esatto, e questo è il problema, siamo in adventure, non riusci... no, vabbè, non riusciamo... no, 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 Chiara, cosa sta succedendo? Non lo so, ma è inquietante. Eh, allora, ehm... non so cosa, cioè, non so cosa dire, qua cosa... cos'è che c'è qua? Non c'è niente, ho paura anche di andare. Non c'è niente. Se fosse una trappola... Esatto, non ci andiamo, allora sembra tipo un ascensore, Chiara. Eh, non so, è tutto così strano, ma... cioè, allora, io... non so, cioè, siamo bloccati qua dentro, ora come, caspita, facciamo ad uscire? Qua c'è... una cosa, ok? C'è una stanza... Dovrei funzionare una porta. Qua ho visto una cesta, cos'è che c'è? E anche degli alambicchi. C'è della carne. Cosa? Buono! L'ho presa io, tieni, te ne do metà. Grazie, grazie. Ma scusa, ma... Questa dovrebbe essere la cucina. Sì, esatto, esatto, infatti si vede che... vedi, qua c'è l'alambicco, tipo il brain stand. Ma mi sembra, mi sembra così strano. Ma allora, proviamo ad andare, proviamo un po' a cercare di uscire da questo... magari ci sono altre vie d'uscite, no? Dobbiamo cercare, sennò non lo sapremo mai. Esatto, dobbiamo cercare, allora... non so, qua c'è qualcosa di strano. Ah, qua sono le casse, vedi? E... Vero? Eh, sì, 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 infatti. Qua altri brain stand. Cos'è? Hai sentito? Cos'era? No, non ho sentito. Io ho sentito qualcosa. No, 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 allora, secondo me qua sta succedendo qualcosa di strano, io non so che cosa sia. Non so, mi sto agitando, Chiara. Allora, andiamo... Oh mio Dio. Eh, perché, cioè, nel senso, non capita tutti i giorni di essere bloccati in un supermercato, cioè, è sempre stato il mio sogno, ma sembra quasi deserto questo supermercato, non sembra, non lo so, che ci sia stato gente qua. È abbandonato. Esatto, è abbandonato. Ma perché è abbandonato? Eh, non so, qua... Non ha senso. Ci sarebbero i bagni. Così i bagni. Eh, esatto. Non capisco cosa ci stiamo facendo qua. Qua altri bagni, ok. Boh, proviamo ad uscire da questo posto. Io, non so, non riusciamo a spaccare niente. Poi non posso nemmeno... Ok, posso darti i pugni, scusa. Sì. Ok, ok. E poi, boh, qua c'è un altro ascensore, vero? Sì, sì, sì. Ok. Allora. Vediamo sopra? Sì, 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 andiamo sopra, vediamo. Però, boh, cioè, io ho come una strana sensazione. Com'è se qualcuno ci stesse osservando, Chiara? Appunto. Poi non sappiamo perché. No, no, cos'è? No, no, Chiara. Chiara c'è la tempesta! No, Chiara, 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 aiutus. Stiamo vicini perché ho paura, allora. No, 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 no. No, 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 Chiara, Chiara. No, 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 per favore, per favore, per favore, per favore. Allora, qua sta succedendo qualcosa. La città è tutta, tutta, tutta pantastrana, deserta, come... Deserta. Poi c'è il temporale. Ok, sta succedendo qualcosa di strano. E non... Dobbiamo scoprire. Dobbiamo scoprire, sì. Prima di tutto però dobbiamo uscire da questo supermercato. Dove la troviamo l'uscita, secondo te? Perché... Eh, qua è tutto chiuso. Questa dovrebbe essere la principale, ma... Allora... Ma è chiusa? Forse, forse, io non vorrei dire, però tutte le porte del supermercato sono chiuse. Quindi, se sono chiuse, vuol dire che la... non possiamo uscire. Quindi dovre... dovremmo restare fino a domani mattina. Chiara, io ho paranoia. Perché ho paranoia? Oddio, io ho ancora no. Io ho paranoia. Oddio, anch'io. No, 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 no. Questo è sintomo di qualcosa. Tu sai di cosa sto parlando, Chiara? Sì. Sì. Abbiamo già avuto a che fare. Eh, con gli SCP. Esatto. Madonna, è fastidiosissima. È a livello altissima. No, no, no. Secondo me c'è vicino qualcosa qua, Chiara. Se fosse per questo che è stato abbandonato? Può essere. Se gli SCP hanno invaso la città? Esatto, oh mio Dio... No, no, no. Eh, no, Chiara, io... No, no, no. Io non so cosa dire. Un altro tuono. C'è qualcosa di oscuro qua che sta succedendo. Io mi sto agitando, Chiara. Non voglio restare qua a fare niente. Cioè, dobbiamo scoprire cosa sta succedendo. Cioè, non è possibile, Chiara. No, 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 aiuto. Allora, siamo solo noi due, ok? Io non so, non so più cosa dire. Si sente che sono agitato. Allora, cerchiamo di calmarci tutti quanti. Allora, è tutta una situazione molto, molto, molto strana. Adesso, però, cerchiamo di uscire da questo cavolo di supermercato. Perché non è possibile restare qua bloccati. Io mi sto arrabbiando, ok? Forse è la paura che mi sta facendo parlare in questo momento. Però non voglio restare bloccato in un supermercato. Magari c'è un'uscita secondaria, non lo so. Speriamo, perché... Eh, sì, esatto. Cerchiamola, cerchiamola l'uscita. Dovrebbe essere circa qua. Non lo so. Qua c'è un corridoio, mi pare, ok? Cioè, vediamo, vediamo qua. Vediamo. No, ma allora... No, 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 questo è un corridoio lungo, Chiara. Qua non c'è niente. Ma è chiuso? È chiuso. E secondo me, scusa, Chiara, io ho un'ipotesi. Secondo me, qua vicino c'è un SCP. Perché se prima ci ha dato paranoia, quello è un sintomo di un SCP. Per forza. Esatto, ma quale SCP? Perché ci sono alcuni davvero orribili. Esatto, cioè, troppi, troppi, troppi. Cioè, davvero... Chiara, cosa c'è là? No, Chiara. Chiara, cos'è? Oddio. Chiara, Chiara, scappa, 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 scappa. È... Hai presente l'ISCP? No, 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 non guardarlo, non guardarlo. È l'SCP 1000, Chiara. È l'SCP 1000. Questo sai cosa fa? Vieni qua nel bagno. Qual era il 1000? Adesso ti spiego, adesso ti spiego. Vieni qua nel bagno, Chiara. Allora, veloce, veloce. Allora. Questo SCP, ti spiego cosa fa? Allora. Fammi calmare un attimo perché ho troppa paura. Allora. Questo SCP, se lo guardi, diciamo, se ci stai troppo con lui, e, diciamo, ti dà un effetto, ti dà il 2% di possibilità di morire istantaneamente per un danno al cervello, ok? E quindi in pratica è una probabilità molto bassa di morire, Chiara. Però più stai con lui, più questa possibilità aumenta. Ogni minuto aumenta sempre di più, sempre di più. E questo è un problema, Chiara, perché se noi stiamo troppo con questo tizio, rischiamo di morire. E noi siamo nel supermercato chiusi con lui. Con lui, esatto. Ma come, scusa, come c'è arrivato qua? Allora, non possiamo, non possiamo restare qua, dobbiamo fare qualcosa. Allora, non so, non so come fare. Dobbiamo trovare un'uscita? Sì, dobbiamo andarcene, però se c'è lui qua, come facciamo ad andare sopra? No, Chiara, è là, è là, è là, Chiara, no, 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 Chiara, Chiara, Chiara. Allora, io ho paura. Senti, facciamo, facciamo una corsa veloce. Io, io mangio, io mangio, ok? Facciamo una corsa veloce. Ok, ho passato da chi? Brava, mangia. E siamo pronti, eh? Sei pronta? Ok, andiamo, vai, 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 veloce. Oh mio Dio. No, 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 è là. Chiara, Chiara, è là, Chiara, è là, Chiara, è là. Oddio, oddio, oddio. Aiuto. No, sono tutte chiuse le porte. Ok, possiamo aprirle, possiamo aprirle. Allora, qua, questo è un teatro. Chiudi le porte. L'hai chiusa? Brava. Sì, sì. Questa è un'altra cesta. No, credo possa aprirle. Oddio. Ok, qua ci sono tre spade. Oh. Questo vuol dire, Chiara, che possiamo... Ok, io ce l'ho sulla spalla la spada. Ok, possiamo, possiamo fare una cosa bellissima. C'è anch'io. Eh, fammi vedere. Sì, ce l'hai anche tu, bellissimo. Bella. Però, eh... Allora, dobbiamo concentrarci sull'SCP, perché qua abbiamo un SCP, mille, ed è pericolosissimo, perché è il Bigfoot, ok? Non so se tu hai sentito le leggende del Bigfoot anche. In pratica... Sì. No, c'è di nuovo paranoia io. No, 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 no. Oh, mio Dio. Allora, in pratica si trova... Può dire che è vicino. Eh, si trova in queste foreste, però, c'è, delle foreste, il Bigfoot. Però, qua, questo... Qua non siamo in una foresta. E si vede che è abbandonato questo posto. E se si fosse generata una cella? Può essere. Sai che ci stavo pensando anch'io? Può essere. Oddio, sti fulmini. Esatto, ma, cioè... Poi, non so, è tutto così strano. Un'ambientazione molto strana questa. Non so, cioè... L'ultima cosa che mi ricordo è che eravamo al centro commerciale. E c'era gente, io mi ricordo, vero? Sì, c'era gente, c'era tanta gente. E c'era anche uno dei nostri amici, ma io non... Cioè, non so perché, come sia possibile che siamo finiti qua dentro. E, cioè... Non lo so. Boh, in teoria siamo anche protetti qua. Non credo che il Bigfoot possa aprire le porte. Tu che ne dici? No, non credo neanche io, però, qui... Oh, no, Chiara, veloce, chiudi, chiudi tutto. Chiudiamo. Allora, questa è una situazione molto in ansia, però io direi di fare una cosa. Prendiamo la spada. E andiamo. Allora, noi proviamo a colpirlo. Ma secondo me ha troppa vita. Può essere... No, vabbè. Mi sto spaventando. Allora, può essere, Chiara, può essere che ha troppa vita. Però noi... Cioè, nel senso, lui potrebbe ucciderci prima. Ok? Quindi l'unica cosa che possiamo fare è andare a cercare di ucciderlo. Poi, casomai, scappiamo velocemente, ok? Le lasciamo aperte le porte. Lasciamole aperte perché sennò, magari, poi, dopo, quando ritorniamo indietro, non dobbiamo stare ad aprirle di nuovo le porte. Allora, dobbiamo prima trovarlo, però, dov'è questo SCP? Non è qua? Meglio che non è qui, sinceramente. Eh, esatto. È tutto strano. Vediamo se è qua. Io non lo vedo. Dove è finito questo SCP? Non lo so. Allora, in teoria, c'è questo dato che mi spaventa. Perché se ci dà paranoia, vuol dire che siamo vicini. Ecco. E più siamo vicini a lui, più aumentano le possibilità di morire. Ma senza che lui ci faccia niente. Cioè, lui ci può colpire. Però noi moriamo istantaneamente. Cioè, non moria. Cioè, allora, se lui non ci colpisce, noi possiamo comunque morire. Chiara, o ceci tu? Chiara, 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 Chiara. Stai vicino, stai vicino. Dobbiamo stare vicini qua, perché sennò poi dopo va a finire male, Chiara. Allora, stiamo attenti. E tu guardati a destra, io mi guardo a sinistra. Ma non vedo niente. Lo so, è proprio per questo che dobbiamo guardarci in queste direzioni. Perché più aumentiamo il range di visione, diciamo. Perché più guardiamo in altre parti, più riusciamo a vedere appunto di più. Quindi, però io non ci vedo niente. No, Chiara, Chiara è là, Chiara è là. Allora. Dove? È sopra, è sopra. Come è sopra? Andiamo, andiamo, andiamo. No, non possiamo. Oppure aspettiamo, magari lui ci ha visto. Allora, facciamoci vedere. Oddio. Cosa? Sta venendo? Sta venendo, sta venendo. Chiara, attenzione. Allora. No, è là. Può venire, magari. Allora, facciamoci vedere. E poi. No, ok, qua. Chiara, Chiara, vieni. Oddio, oddio, oddio. Chiara, prendi, prendi la spada. Attacchiamolo. Attacchiamolo, veloce. Ah, no. Non ti fa attaccare, non ti fa attaccare. No, no, no. Chiara, Chiara, scappa. Scappa, scappa. Vieni. No, no, Chiara, ci sei? Chiara, sei viva? Sì, sono viva. Qua, qua, qua. Vieni, 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 vieni. Non farti inseguire, veloce. Andiamo qua dentro. Lui tanto non le può aprire le porte, in teoria, perché è un SCP. Ok. Però si comporta tutto strano. Com'è possibile? Tutto come se fosse... Come se avesse un'intelligenza. Allora, vieni. Chiudi, chiudi, chiudi. Chiudi, chiudi, chiudi. Ok, 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 ok. Oh, mio Dio. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Allora. Oh, mio Dio. Oddio, si è arrabbiato. Sì, si è arrabbiato un sacco. Poi questi tuoni. No, 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 Chiara, mi sto, mi sto preoccupando. Solo a me è sembrato che non si potesse colpire. No, no, non si poteva colpire. Seriamente, cioè, anch'io ci ho provato. Io facevo così, così, e non si poteva colpire. Anch'io. E io ho detto, ti posso colpire se voglio. Sì. Cioè, vedi? E lui no, ma perché? Cioè, questa cosa è strana. Allora, non so cosa dire. Però, so, che dobbiamo, dobbiamo cercare qualcos'altro. Allora, qua cos'è che c'è? Non lo so. Questa è una strana esterna. Forse la nostra spara non è abbastanza potente. Eh, può essere, può essere, perché per, io so che per gli SCP serve la telekill. Ed è meglio quella rotta, diciamo, quella, la telekill sword, diciamo, distrutta, ecco. Ma cos'è? Dov'è? Dov'è che ci può? Scusami, io ho paura. Ok, ok. Sì, tranquilla, tranquilla. Allora, in teoria non c'è niente qua. Cos'è? Allora, questa è una stanza. Qua ci sono delle... Cosa? Key card. No, vabbè. Chiara, ma dove siamo finiti? Ma allora vedi, come dicevi tu, qua c'è una... Ci sono delle cose, diciamo, degli SCP. Tieni questa card. Io mi tengo questa di livello più alto, perché sono io... Cioè, vado avanti io. Proviamo anche l'altra? Così se viene qualcuno... No, 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 l'ho presa io, l'ho presa io, tranquilla. Ah. Dov'è? Poi qua c'è una torcia. Ah, è presente. Questo dovrebbe essere un SCP, ma non so. Mi sembra... Mi sembra o mi sbaglio che questo è un SCP in teoria. In teoria? O sbaglio. È la flashlight. Dipende. E poi qua c'è una siringa. Eh, dipende. Allora, la siringa tienila tu. Ok. La flashlight la tengo io nel caso magari serve vedere qualcosa, non so. Allora. Ecco, qua c'è una cella, come dicevi tu. Oh mio Dio, dove siamo? Speravo non fosse vero. Eh, esatto. No, ma perché era ovvio. Lui... Ma allora, scusami. Quindi deve aver rotto la cella, per forza. Ma se non può prendere la forza? SCP-1000. Sì, 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 è lui, è l'SCP-1000. Eh, non lo so, forse... Non lo so. Allora c'è un'intelligenza, diciamo, esterna a questo SCP che gli ha fatti uscire. Ma chi può essere? Non lo so. Ecco, esatto. Vediamo cosa c'è qui. Ah, qua ci sono una serie di cassetti. Una pattoglia. Boh, se vuoi controlla. Io vado avanti un po'. Chiara. Cosa? Vieni a vedere. No. No! È da qua che è uscito. Porca miseria. Oddio. È da qua che è uscito. Allora. Infatti lì c'è l'entrata. No, 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 Chiara. Chiara, Chiara. Allora abbiamo gesita. No, può essere qua vicino. No, qua c'è una porta. Ok, dove che porta? Ok, qua si esce. Oddio. Io sono in ansia. In teoria qua non c'è nessuno, ok? No, non può arrivare qua, Chiara. Non può, non può. Io non so se si sente, ma io sono troppo in ansia. Cioè, sto balbettando. Allora, dobbiamo cercare di mantenere la calma. Perché qua serve sangue freddo, ok? Sono caduto. No. Aiuto. No, no, no. Non possiamo spaccare. No, come non hai blocchi? Cerca meglio, cerca meglio. Allora, cos'è? Ma poi, questa stanza cos'è, Chiara? Cioè, è tutto... Non lo so. È tutta una cosa strana. Cioè, boh... Aiuto. L'hai trovato i blocchi? Cioè, magari... Non lo so. Sei sicura? Magari tipo... Oddio. Nell'inventario rapido. Cosa? Non le avevo visti. Ah, ok. Quindi ce li hai? Ne ho quattro. Non so dove le ho presi. Ah, ok. Per fortuna. Meno male, madonna. Che ansia. Allora... No, però io non posso piazzare, Chiara. È vero. Siamo in adventure. Eh, no. Come che faccio? Ma infatti... Cioè, boh... Non posso spaccare. Non capisco. No, Chiara. Chiara, dove siamo? Oddio. Chiara? Ma? Ma? Io vedo tutto strano. Ma, scusa, siamo tratti di teletrasportati? Sì. Non ero qui io. Ma nemmeno io. No, cos'è successo, no? Di nuovo. Porca miseria. Uffa. Cosa sta succedendo? Perché? Non lo so. Sto vedendo tutto... Io sto vomitando. Ho blindness infinita. Ma io secondo me... Io ho slowness. Tu hai slowness. Secondo me ci spariranno. Io spero che ci spariranno. Dov'è che siamo qua? Questa è la cella dell'SCP. No, Chiara, vieni anche tu perché sennò io ho paura. Qua questo è il computer, in teoria, della fondazione. Cos'è questo? Un pezzo di carta. Io lo prendo. Non so. Ho fatto un blank document. Eh, bello. Cos'è che fa, scusa? Niente. Hai sentito? Oddio. Il fulmine. Eh. Eh. Allora, io qua ho paura. Perché questa, in teoria, è la cella di questo SCP. Delle SCP del Bigfoot, Chiara. E questo è un problema. Perché ha spaccato la cella. Ma secondo me, qua in questa città, è pieno di questi cosi. Perché succedono troppe cose strane. Lui può entrare quando vuole. Entra e esce. Esatto. Ma questo è una cosa normale. E non è normale. Cioè. Ma, appunto. Esatto. Allora, secondo me, la fondazione è stata, diciamo, come dire, è stata abbandonata. Secondo me, io, quello che penso è che dobbiamo trovare un modo, Chiara, per fare sì che le persone ritornino a lavorare alla fondazione. Perché si vede che è abbandonata. Cioè, servono, serve il personale che lavori, serve il personale che catturi gli SCP. Capito? E quindi noi dobbiamo essere le persone che iniziano a fare questa cosa. Perché se no, non ne caviamo piede. Questa città è infestata di SCP. Perché succedono troppe cose strane. A me a volte vengono anche, diciamo, degli effetti strani. E non lo so, io ancora c'è città. Ma quando si toglie accidenti? Io non lo so, è così strana. Allora, io spero che si tolga, dunque. Speriamo. Eh, speriamo, usciamo. Si è tolta? Ok, ok, si è tolta. Ma allora, scusa, vedi, ma anche questo è strano. Cioè, come se qualcuno ci stesse sentendo in questo momento. Non è normale. No. Non è normale. Direi che non è normale, Chiara. Cioè, questa cosa mi mette preoccupazione. Chiara è qua! L'ho visto! Oddio! L'ho visto! No, 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 no. Io non l'ho visto, non l'ho visto. Chiara, 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 allora, io, allora, mi parte di nuovo l'ansia. Vediamolo bene. No, no, Chiara! Chiara è qua! Chiara! Oddio, oddio, oddio! No, 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 Chiara, non possiamo spaccare niente. No, 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 vieni, facciamo il giro, facciamo il giro. Magari sparisce. Allora, in teoria, da questa parte, da questa parte, in teoria, si esce, c'è il giro. Perché io conosco un po' di celle SCP. Io ne ho esplorate alcune. Poi queste porte, porca miseria, fanno un casino assurdo. Allora, stai attento a non cadere, perché qua non possiamo spiazzare niente. E, vedi, anche prima, se ti rendi conto, prima, qualcuno, è come se ci avesse teletrasportato, perché ha visto che abbiamo avuto questo problema. Esatto, io mi sono trovata a quattro blocchi. È come, esatto. È, vedi, vedi, ti sei trovata a quattro blocchi. Ma, allora, questo vuol dire che c'è qualcuno che ci sta osservando, che ci sta, diciamo, non lo so, è come se stesse giocando con noi. Vediamo se è ancora qua. No, allora, stai attenta, hai tutti i niti pronti, anzi, facciamo così, tu stai dietro. Pronta ad aprire. Ok. Io vado, no, Chiara è ancora qua. Non posso aprire io questa. Allora, allora, fai niente, facciamo così. Facciamo così, facciamo un piano. Ci dobbiamo organizzare. Allora, prendiamo la spada in mano. Ok, tu prendi la spada in mano. Ok. Ok, io apro la porta e subito dopo che apro la porta... Ma, oddio, si vede attraverso la porta. No, Chiara, Chiara, no, no, no. Se non se ne va, com'è che facciamo? Perché questo ci può uccidere. Lo so, lo so che ci può uccidere, ma in qualche modo dobbiamo uscire. Esatto, dobbiamo uscire. Allora, facciamo così, facciamo una corsa super grande, ok? Corriamo, ok? Io apro. Tieniti pronta, eh? 3, 2, 1, via, via! Oh, mio Dio, vai, Chiara, Chiara. No, 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 Chiara, scappa, 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 veloce, 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 Chiara, sei pronta? Ok, andiamo, 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 scappiamo, 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 scappiamo. Allora, andiamo, andiamo, andiamo. Allora, hai visto? Vai, cioè, dietro di te c'è qualcuno. Allora, io mi sto, mi sto impappinando perché ho troppa paura, ho troppa paura. Qua fuori è ancora notte, ma accidenti, quando è che finisce? Allora, io mi sono calmato. Qua lui non sembra, non sembra che lui riesca a venire qua. No, qua sembra che non ci arrivi. Eh, ma secondo me è perché ha difficoltà ad aprire le porte, ma c'è qualcuno che gliele apre allora, per forza, cioè. Per forza, perché sennò non ha senso. Eh, sennò non ha senso, come dici tu. Allora, io non so per quanto potrò resistere ancora a questa notte, perché... Vedi, ancora non finisce, non finisce, com'è possibile? Ma, quanto dura? Oh mio Dio, che ansia. Chiara, ha spaccato tutto. Chiara. Oddio. Hai visto? Se n'è andato. Oddio. Veloce, scappiamo, scappiamo, scappiamo. Oh mio Dio, allora, eh, veloce prima che si chiudano le porte, prima che arrivi qualcuno e veda. Se n'è andato, allora, eh, vieni, vieni, seguimi. Allora, è stata una brutta cosa, noi, attenzione a non rivederlo più, ok? Mamma mia, che brutta esperienza. Sì, è stato orribile, allora, vediamo se troviamo un rifugio. Ecco, questo palazzo mi sembra abbastanza accogliente, che ne dici? Ecco, è anche aperto, è anche aperto, io non vorrei ora che qualcuno... Ma tanto, vedi che è tutto abbandonato. È abbandonato, chi se ne frega. Magari, magari qualcuno, boh, non lo so, è a dormire, però non so, sembra tutto abbandonato, vedi? Qua poi le porte sono aperte, cioè... Andiamo qui, magari. Esatto, esatto, esatto. Allora. Io direi che questa situazione è molto strana, Chiara. Non so cosa pensare. Tu che cosa ne dici? Non lo so. È tutto troppo strano. Esatto, ci sono questi SCP che vanno in giro. Io non so, veramente, c'è questo Bigfoot. Vabbè. Allora, non lo so, vedremo la prossima volta. Per ora andiamo a dormire. Ciao. Ciao.